Un salotto del wellness nel cuore della provincia di Napoli. Si presenta così Nemea Beauty, struttura polifunzionale impegnata in prima linea anche per la riqualificazione del territorio, spesso dimenticato dalle istituzioni. Successo per il parti inaugurale, che è coinciso anche con il terzo compleano di Scinto, che si è tenuto nella sede di Nemea Energy Village a Cardito. Con l'apertura ufficiale degli spazi dedicati alla bellezza, migliaia di persone hanno potuto apprezzare gli spazi e i trattamenti che sono riservati ai clienti del centro, per dedicare del tempo a se stessi. Un nuovo spazio emozionale, all'interno del quale i professionisti del settore hanno dato prova pratica degli innovativi macchinari dedicati alla bellezza. Presenti oltre al direttore tecnico della struttura, Massimiliano Rosolino, ex nuotatore e campione olimpico e il pugile originario di Casoria e campione italiano di Pesigallo, Vincenzo Picardi, la club manager già da Punzo. Siamo orgogliosi di presentare il Nemea Beauty, il completamento di un percorso di benessere che inizia dal Nemea Energy Village e termina adesso con il centro estetico e l'area parrucchiere barbershop. Offriamo tutti i servizi inerenti all'estetica, da quella di base a trattamenti HP performanti, vari tipi di epilazione, relax, benessere di ogni tipo, oltre a tutti quanti i trattamenti offerti per il benessere e la cura dei capelli. Per sottolineare l'importanza dell'evento non sono mancati ospiti d'eccezione come Elisabetta Gregoraci e Gabriele Garco. Non mi era mai capitato, pure il giro al mondo, di vedere una struttura così grande, poi al sud ne avevamo veramente bisogno e quindi hanno fatto veramente una cosa speciale. Non ci sono segreti per la bellezza. Io per quanto mi riguarda, per quel che riguarda quello vivo di rendita, poi sicuramente mi alleno, mangio bene, tutto e adesso sono interessato a ciò perché comunque mi ha portato a questo, però devo dire soltanto grazie ai miei genitori. Una passeggiata degli ospiti negli spazi dedicati alla mostra allestita da gioielli e riventrella che hanno esposto la collezione design di statue dedicate al patrono di Napoli, San Gennaro, e poi tutti al party per il compleanno del Sushi & Cocktail Experience Restaurant.